buongiorno a tutti oggi alle grone immobiliare vi presento un appartamento sito in pavia burgo ticino l'appartamento viene consegnato non arredato come vedete c'è la cucina abitabile questo qua il pezzo forte dell'appartamento il balcone a faccia sul fiume ticino in fondo c'è l'area wool in questo balcone uno può mettere un tavolino con un paio di sedie questo è il soggiorno soggiorno ampio ricordo che viene affittato non arredato andiamo nella zona notte qui c'è il bagno con la doccia il bagno è stato completamente ristrutturato qua ci sono i vetri singoli ed infine l'ampia camera da letto matrimoniale matrimoniale ecco qua li affaccio con salaria wool la camera il vetro singolo allegrone immobiliare se non puoi chiamarmi ora condividi il video su facebook oppure scrivimi ad allegrone immobiliare che ho solo a libro.it le altre offerte su www.blocalipavia.it www.blocalipavia.it